Ciao a tutti ragazzi! In questo video risolverò alcune equazioni di primo grado. Innanzitutto ricordiamo che cosa significa risolvere un'equazione. Significa trovare il valore della x che rende vera questa uguaglianza, ovvero questa equazione. Cominciamo con il moltiplicare il meno 2 per entrambi i termini di questa parentesi. Quindi meno 2x più 2. Ora qui abbiamo un meno davanti alla parentesi, quindi cambiamo tutti i segni. Meno 2 più x uguale, moltiplichiamo il 3 per la x e il 3 per il meno 1, quindi meno 3 meno 1. Ora, è utile utilizzare il primo principio per avere tutte le x ad un membro e tutti i numeri dall'altro membro. Allora, ricordiamo che il primo principio ci dice che possiamo sommare o sottrarre uno stesso numero o una stessa espressione algebrica definita in entrambi i membri. Questo principio ci porta a dire che possiamo spostare da un lato e dall'altro, quindi da un membro e dall'altro, le x e i numeri cambiando di segno. Però ricordo che questo spostamento è semplicemente apparente, deriva dal primo principio che ho spiegato nel primo video che ho fatto sulle equazioni. Comunque, ho deciso di vedere tutte le x al primo membro, quindi porto il 3x a sinistra, cambiando di disegno. Ora, osserviamo che questo 2 e questo meno 2 si semplificano, quindi mi rimane meno 3 meno 1. Ora sommiamo meno 2x più x, che significa meno x, meno x meno 3 fa meno 4x uguale a meno 4. Adesso possiamo cambiare di segno da entrambi i membri, quindi diventa 4x uguale a 4. Questo cambio di segno deriva dal fatto che ho moltiplicato per meno 1 da entrambi i membri. E ora posso sfruttare il secondo principio e divido entrambi i membri per 4. In questo modo qua si semplifica, e anche qui, e ottengo che x è uguale a 1. Che cosa ho trovato? Ho trovato il valore che, se sostituito all'interno della x, mi rende questa uguaglianza vera. Proviamo un'altra equazione. In questo caso, osserviamo che ci sono anche dei coefficienti frazionari. Quindi, qua compaiono anche dei prodotti notevoli. Per esempio, questo è un quadrato di binomio. Ricordiamo velocemente il quadrato di binomio e la sua formula, quindi a più b alla seconda è a alla seconda più 2 per a per b più b alla seconda. E quindi a, in questo caso, è un mezzo x. Quindi a alla seconda sarà un quarto x alla seconda. 2 per a per b significa fare 2 per un mezzo x per meno un terzo. Quindi, se facciamo fatica, possiamo farlo in parte, quindi 2 per un mezzo x per meno un terzo. Quindi il 2 e il 2 si semplificano e ottengo meno un terzo x. Più un terzo alla seconda che fa un nono. Ora, questo è un prodotto tra polinomi. Consiglio prima di fare il prodotto tra polinomi e poi cambiare di segno. Quindi, un mezzo x per un mezzo x risulta un quarto x alla seconda. Un mezzo x per più 3 fa più 3 mezzi x. meno 1 per un mezzo x fa meno un mezzo x e meno 1 per più 3 fa meno 3, uguale meno 2x. Ora, ricopio tutto fino ad arrivare alla parentesi. Qui abbiamo un meno, quindi andiamo a cambiare tutti i segni. Meno un quarto x alla seconda, meno 3 mezzi x più un mezzo x più 3, uguale meno 2x. Ora, un quarto x alla seconda e meno un quarto x alla seconda sono opposti e quindi li semplifico. Riscriviamo al primo membro i termini dipendenti dalla x, quindi meno 3 mezzi x più un mezzo x e portiamo al primo membro questo 2x cambiandogli di segno. Ora, prendiamo semplicemente le frazioni, quindi meno un nono, quindi ho portato meno un nono dall'altro membro, cambiamo di segno. Meno un nono, meno 3 rimangono. Ora, andiamo a sommare tutti questi monomi dipendenti dalla x, quindi la parte letterale, possiamo dire che la x è anche la nostra incognita, in questo caso facciamo il denominatore comune, possiamo fare il denominatore comune sia del primo membro che del secondo, quindi i denominatori sono 3, 2 e 9 e quindi il minimo comune multiplo è 18. 18 diviso 3 risulta 6, quindi meno 6 che moltiplica per x, 18 diviso 2 fa 9 che moltiplica per 3, 9 per 3 è 27x, più 18 diviso 2 fa 36x, uguale, anche qui facciamo denominatore comune 18, 18 diviso 9 fa 2, quindi davanti c'è un meno diventa meno 2, 18 per 3, lo facciamo in colonna, 8 per 3 è 24 con 2, 3 per 1 è 3, quindi risulta meno 54. Ora, per il secondo principio, possiamo moltiplicare per 18 da entrambi i membri, e così semplificare, quindi ci rimane meno 6x meno 27x più 9x più 36x uguale a meno 2 meno 54, facciamo tutte le somme, quindi meno 6 meno 27 fa meno 33, meno 33 più 36 fa 3x, 3x più 9x fa 12x uguale a meno 54 meno 2 risulta meno 56, quindi ora possiamo dividere tutto per 12, e otteniamo che x è uguale a 56 dodicesimi, può essere semplificato, dividiamo per esempio per 2, e quindi risulta 28 sesti, possiamo dividere di nuovo per 2, 14 terzi. Questo è il valore di x, che inserito, diciamo, al posto delle x, sostituito, mi dà un'uguaglianza vera. Proviamo a fare l'ultima eclazione. Ecco qua. Ora, osserviamo che qui abbiamo già tutti i coefficienti frazionari, quindi possiamo già fare il denominatore comune in entrambi i membri. Tra 2, 6, 3 e 4, il minimo comune multiplo è 12. Ora, 12 diviso 2 fa 6, che moltiplica x meno 1, meno 12 diviso 6 fa 2, che moltiplica per 3x meno 2. Poi, 12 diviso 3 fa 4, che moltiplica x meno 4, e 12 diviso 4 fa 3, che moltiplica 2x meno 1. Adesso possiamo utilizzare il secondo principio, moltiplicare da entrambi i membri per 12, semplificando così i denominatori, e quindi possiamo andare a moltiplicare subito il 6 per entrambi i membri di questa parentesi, quindi 6x meno 6, meno 2 per 3, 6x, più 4, uguale 4x meno 16, 3 per 2, 6, quindi meno 6x più 3. Adesso andiamo a semplificare questi due termini, perché sono opposti, e quindi possiamo lasciare di qua le x, portare stavolta di qua i termini numerici, e quindi rimane meno 6 più 4, poi più 16 e meno 3. Quindi, vedete, ho portato il 16 e il 3 al primo membro, cambiando il disegno, uguale a 4x meno 6x. Ora, meno 6 più 4 fa meno 2, meno 2 più 16 fa 14, meno 3 fa 11, uguale a meno 2x. Adesso, per esempio, possiamo cambiare segno, quindi ci risulta 2x uguale a meno 11, dividiamo tutto per 2, così qua si semplifica, e ci risulta che x è meno 11 mezzi. Ecco qua il valore di x che rende vera la nostra uguaglianza. Spero che questo video ti sia stato utile, ti invito a mettere un like sotto il video e iscriverti al canale. Buona giornata!